iniziamo a questo punto il 79esimo giro cambiando colore utilizzando nuovamente il colore a ossia il primo colore che abbiamo utilizzato quindi ho fatto due catenelle e voltato il lavoro e vado a lavorare due maglie alte a partire dal primo punto e non lo chiudo in questo modo e il secondo punto e chiudo insieme quindi a partire da questo punto che andremo a fare lavoreremo completamente a maglia alta fino ad arrivare al centro del nostro lavoro 71 maglie alte lavorate le mie 71 maglie alte mi trovo nuovamente al centro e quindi vado a lavorare due maglie alte una e 22 catenelle e 2 maglie alte 1 e 2 quindi proseguo lavorando nuovamente 71 maglie alte e poi a chiudere il nostro giro con due maglie alte chiuse insieme negli ultimi due punti e quindi dobbiamo lavorare allo stesso identico modo anche l'ottantesimo e l'ottantaunesimo giro sull'ottantesimo andremo a lavorare sempre le due maglie alte chiuse insieme e 72 maglie alte per lato al centro sarà sempre due maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte invece per quanto riguarda l'ottantunesimo giro andremo a lavorare sempre le due maglie alte 73 maglie alte e al centro sempre due maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte quindi ci rivediamo per lavorare insieme l'ottantaduesimo giro per l'ottantaduesimo giro ho già avviato le due catenelle e le due maglie alte chiuse insieme quindi a partire da questo punto faccio una catenella salto un punto e in quello successivo vado a lavorare una maglia alta ancora una catenella salto un punto di base e in quello successivo una maglia alta praticamente dobbiamo lavorare il punto quadretti e da questo primo quadretto al centro del nostro lavoro le dobbiamo lavorare 37 lavorato le 37 i 37 punti quadretti mi ritrovo con l'ultimissima maglia alta lavorata sulla sulla maglia alta del giro precedente sull'ultima maglia alta del giro precedente quindi al centro vado a lavorare una catenella una maglia alta due catenelle una maglia alta e una catenella quindi faccio la mia prima maglia alta sulla maglia alta del giro sottostante e continuo nuovamente a lavorare altri 37 punto a quadretti in questo modo per l'ottantatresimo giro ho fatto due catenelle ho voltato il lavoro quindi prendo il primo punto a nel punto di base il secondo sulla catenella il secondo sulla catenella e chiudo tutto insieme quindi vado a fare una maglia alta sulla maglia alta sottostante e inizio nuovamente a fare il punto quadretti quindi una catenella che già ho fatto una maglia alta e una maglia alta quindi una catenella e una maglia alta fino ad arrivare al centro in totale dobbiamo realizzare 38 punti quadretti quindi errata corrige dovranno essere 37 punti quadretti anche per quanto riguarda l'ottantatresimo giro quindi arrivati al centro vado a fare nuovamente una catenella e come al giro precedente lavoro una maglia alta due catenelle una maglia alta una catenella una catenella e quindi ricomincio la lavorazione di altri 37 punti quadretti anche da quest'altro lato dall'ottantaquattresimo all'ottantaseisimo giro dovremo ripetere alternando l'ottantaduesimo e l'ottantatresimo giro contando i punti quadretti nell'ottantaquattresimo dovranno essere 38 quadretti per ogni lato nell'ottantacinquesimo nuovamente dovranno essere 38 quadretti per ogni lato e nell'ottantaseisimo giro dovranno essere 39 quadretti per lato ci vediamo per lavorare insieme l'ottantasettesimo giro per l'ottantasettesimo giro ho fatto due catenelle e voltato il lavoro prendo la prima maglia alta nel primo punto sottostante e non lo chiudo prendo la seconda maglia alta sulla catenella del giro sottostante e chiudo tutto insieme quindi a partire dalla prima maglia alta che si presenta del giro sottostante vado a lavorare completamente a maglia alta sia sulla maglia alta che sulla catenella in questo modo quindi arrivo al centro del nostro lavoro ottenendo 79 maglie alte a partire da quella che abbiamo lavorato sulla catenella 79 maglie alte lavorate le 79 maglie alte al centro vado a lavorare 2 maglie alte 1 e 2 quindi 2 catenelle e 2 maglie alte 1 e 2 quindi lavoro nuovamente 79 maglie alte e continuo così fino alla fine lavorando a specchio e siamo arrivati all'ottantasettesimo giro quindi ho fatto già le due catenelle e voltato il lavoro e vado a prendere la prima maglia alta nel primo punto di base e la seconda nella seconda maglia alta del giro sottostante e chiudo insieme quindi vado a fare una maglia alta nel punto che segue e la chiudo nel punto successivo vado a realizzare 3 maglie alte 1 2 e 3 quindi salto due punti 1 e 2 nel terzo vado a lavorare una maglia bassa faccio una catenella salto un punto di base e in quello successivo un'altra maglia bassa quindi salto due punti di base 1 e 2 e nel terzo vado a lavorare 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 quindi nuovamente salto due punti di base nel terzo una maglia bassa faccio una catenella salto un punto di base e quindi una maglia bassa proseguo questo motivo fino ad arrivare al centro del nostro scialle a partire dalla base vado a contare 10 ondine quindi 1 2 3 4 così via sono arrivata alla decima ondina e quindi mi ritrovo a lavorare una maglia bassa una catenella e una maglia bassa negli ultimi punti vado a saltare l'ultimissimo punto che resta libero e mi ritrovo a lavorare al centro al centro in cui andrò a fare 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 2 catenelle e 3 maglie alte 1 2 e 3 e quindi lavorerò lavorerò nuovamente altre 10 ondine all'altro lato per l'ottantanovesimo giro ho fatto due catenelle voltato il lavoro e quindi vado a riprendere una maglia alta e un'altra maglia alta nel punto successivo e chiudo insieme quindi vado a lavorare 5 maglie alte in questo modo 1 2 e 3 sulle 3 maglie alte lavorate nello stesso punto del giro sottostante e quindi vado a lavorarne un'altra sulla maglia bassa del giro sottostante e l'ultima sulla catenella sempre del giro sottostante quindi vado a fare 3 catenelle 2 e 3 e una maglia alta sulla maglia alta centrale del gruppo di 5 che abbiamo lavorato sempre nel punto sottostante quindi nuovamente 3 catenelle questa è la terza e a partire dalla catenella che distanza le due maglie basse del giro sottostante iniziamo a lavorare 9 maglie alte quindi questa è la prima la seconda sulla maglia bassa poi c'è dalla terza la quarta la quinta la sesta la settima andranno lavorate tutte sul gruppo di 5 maglie alte e ancora altri due una sulla maglia bassa e l'altra sulla catenella del giro sottostante devono esserne 9 quindi ripeto nuovamente 3 catenelle 2 e 3 sulla maglia alta centrale del gruppo di 5 vado a fare una maglia alta in questo modo e quindi ripeto questo motivo fino ad arrivare al centro del nostro lavoro ho lavorato fino ad arrivare all'ultima ondina del giro precedente quindi ho fatto 3 catenelle e sempre a partire dalla la maglia bassa che va a seguire lavoro una maglia alta in ogni punto 1 2 3 la quarta la lavoro sempre sulla maglia alta del giro sottostante e anche la quinta ecco qua quindi ne vado a lavorare 5 in totale quindi vado a fare l'aumento al centro saranno 2 maglie alte 1 e 2 quindi 2 catenelle e 2 maglie alte 1 e 2 quindi sempre a specchio vado a ripetere lo stesso motivo novantesimo giro ho fatto una catenella voltato il lavoro quindi faccio una maglia bassa sul primo punto e quindi altri due sui due punti successivi 1 e 2 quindi vado a fare 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e arrivo alla maglia alta quella che distanza le 2 catene le 3 catenelle da un lato e dall'altro quindi vado a lavorare una maglia bassa prima della maglia alta una catenella e una maglia bassa dopo la maglia alta in questo modo quindi nuovamente 5 catenelle 2 3 4 e 5 e sulle maglie centrali del gruppo di 9 vado a realizzare 3 maglie alte 3 chiedo scusa 3 maglie basse allora 1 2 e 3 in questo modo ancora 5 catenelle 2 3 4 e 5 mi ritrovo nuovamente sulla maglia alta che distanza le catenelle quindi faccio una maglia bassa una catenella e una maglia bassa e continuo così fino ad arrivare al centro arrivate in prossimità del centro ho realizzato le ultime cinque maglie alte e vado a lavorare a maglia bassa le ultime due maglie alte del giro sottostante quelle prime dell'aumento quindi faccio una maglia bassa e una maglia bassa altre due maglie basse ne faccio sulle ultime due maglie alte quelle dell'aumento del giro precedente quindi 1 e 2 vado a lavorare due catenelle che sono proprio il centro e ripeto nuovamente una maglia bassa 2 maglie basse nel centro del giro precedente altre due maglie basse sui due punti che si presentano e quindi avvio nuovamente 5 catenelle 2 3 4 e 5 e proseguo sempre a specchio lo stesso motivo anche dall'altro lato 91esimo giro fatto le due catenelle voltato il lavoro quindi vado a fare due maglie alte la prima e la seconda nei primi due punti e chiudo quindi un'altra maglia alta sulla maglia bassa del giro precedente e poi vado a fare tre maglie alte sulle catenelle quindi 1 2 e 3 quindi faccio 3 catenelle 1 2 e 3 e una maglia alta sulla catenella del giro sottostante la catenella che separa le due maglie basse quindi nuovamente 3 catenelle e vado a lavorare 1 2 e 3 maglie alte sulle catenelle quindi 1 2 e 3 maglie alte sulle maglie basse sulle 3 maglie basse del giro precedente e ancora altre 3 maglie alte sulle catenelle 1 2 e 3 cito e 3 quindi faccio 3 catenelle 2 e 3 una maglia alta sulla catenella che separa le due maglie basse del giro precedente in effetti dobbiamo ripetere questo modulo fino ad arrivare al centro del nostro lavoro arrivata in prossimità del centro vado a lavorare 3 maglie alte sulle catenelle e quindi altre ma tre anzi 4 maglie alte questa è la prima la seconda la terza e la quarta fino ad arrivare al centro quindi sulle due catenelle del giro sottostante vado a lavorare 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle e 2 maglie alte 1 e 2 e quindi procedo anche dall'altro lato la lavorazione a specchio dello stesso motivo 92esimo giro ho già avviato l'inizio del nostro giro quindi 2 catenelle 2 maglie alte chiuse insieme e a partire da questa maglia alta quindi questa è la prima questa appena effettuata vado a lavorare 83 maglie alte fino ad arrivare al centro del nostro lavoro questa è la seconda la terza e così via lavorando le ovviamente dove abbiamo fatto 3 catenelle andremo a lavorare 3 maglie alte arrivati quindi al centro andremo a fare 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle quindi a partire dalla prima maglia alta proseguiremo la stessa identica la lavorazione